A disegnare il logo celebrativo dei 120 anni di Banca Alta Toscana è stata una studentessa del liceo artistico Petrocchi di Pistoia che ha vinto il concorso indetto dall'istituto di credito cooperativo in collaborazione con la scuola. Da un punto di vista artistico simboleggia la continuità della banca. Abbiamo scelto questo, ci è piaciuto particolarmente per questo motivo. La nostra è la banca della comunità e ci faceva piacere continuare a collaborare con la scuola d'arte. Gli artisti hanno una visione particolare del mondo e riescano a esprimere in pochi tratti dei concetti importanti. Nel caso nostro è questo della continuità della nostra azione. Il lavoro di Serena, la studentessa di origine cinese che ha vinto il concorso, è stato valutato assieme a quelli dei compagni di classe della seconda G della sede distaccata di Quarrata ed è stato scelto dal Consiglio di Amministrazione di Banca Alta Toscana con la seguente motivazione. Il logo caratterizzato dai colori tipici del credito cooperativo restituisce attraverso il continuum del segno grafico delle cifre la linea di continuità che ha contrassegnato giorno dopo giorno i 120 anni di storia della banca. Sì, è un'altra delle nostre intenzioni di collaborare sempre più intensamente con il territorio, tra l'altro una scuola di giovani potenzialmente artisti, per cui che danno un tocco di fantasia a un aspetto bancario che di norma lascia la fantasia un po' da parte a favore dei numeri e della razionalità. Questo denota le grandi potenzialità che hanno chiaramente i nostri studenti dell'artistico, nonché anche i nostri docenti che sono molto preparati e che talvolta sono anche loro degli artisti. Quindi questo consente di esprimere al massimo le potenzialità dei nostri studenti.